Sì ragazzi, Superman ha appena uccito il Joker Salve gamers, youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Injustice, Gods Among Us Siamo qui e stiamo facendo un livello con il Joker, non vedevo l'ora, pronti eh? Ok, vai, si comincia, e era grandissima proprio Aia, 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 Batman mi ha fatto una counter in tutti Aia, aia, e vabbè, 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 ma non è difficile, vabbè, è normale Aia, vabbè, vedi, tutto schifoso Aia, mi hai fatto, ole, eh, sì, vabbè, ole Aia, mi, 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 mi ferisci, e ti faccio così E proprio, in the face, aia, 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 mi fai male, va Batti, batti le mani, batti Aia, come era il Cientino? Vabbè, cosa faccio? Eh, sì, il cerchio, il cerchio è un attacco incredibile, ragazzi Praticamente Ole, no, 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 no Ole, ce l'ho fatta Praticamente il cerchio, ragazzi, non so cosa fa esattamente Fa una counter incredibile Io voglio provare a falla, eh Vediamo un po', eh Aia, non ce la faccio, non ce la faccio Non ce la faccio, non ce la faccio Però io ci provo, ragazzi, io ci provo Vabbè, io ci provo Sì, vabbè, sei ma stavacchi magari, eh Ho capito, ho capito No, 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 eh, ci hai provato, eh Batman, ci hai provato Ole Un, deux, trois E vabbè Un, deux Vabbè Ole, aia Aia Un, deux E vedi, di quattro cosa posso fare? Uh, tantissimo male Va bene, sì, vabbè, non è nulla, non è? Un, deux, trois Ehi Vabbè, ragazzi, non importa chi vincerà Tanto ho già vinto io Ho già vinto io, Batman Ho già vinto io E te non puoi farci nulla L'isata tipica del gioco, no? Ed è finita Torta in faccia No Non ci credo Non ci credo, no, non puoi vincere Non ci credo, non puoi vincere Non puoi vincere Sono riuscito a vincere Voi a Batman Stava per fare un recupero incredibile Ma è inutile Batman Non c'ha l'altro aperto Ia Avrei avuto, sì, 10 milioni di visual Avrebbe avuto La rieducazione mentale Eh, lo sta rieducazando Ovviamente Chi è l'unico che può Opporsi a Superman Il mitico è solo Batman Eh, voglio dire D'accordo, tu hai Batman Ma non è, ma qua non è un bisbo Arlene Arlene Ancora più sexy che mai Vabbè, se si fosse veramente Messi in avanti i pantaloni Per vedere se Sulla biancheria Sarebbe stato meglio Ma vabbè, pazienza Non importa Eh, non riesce a credere Che lui sia Mr. J Ma vediamo se Dopo le mazzate Che le daremo Capirà benissimo Che io sono il caro Mr. J Il caro Mr. Joker E che c'è da dire ragazzi Di Harley Quinn Harley Quinn Praticamente era La psicologa Addetta Al Joker Doveva occuparsi Lei del Joker E mentre lo curava Come possiamo vedere In Arkham Origins Il videogioco Che io peraltro Ho odiato Alla follia Arkham Origins In quanto secondo me Doveva uscire per Playstation 4 E non per Playstation 3 Perché ha avuto Dei limiti incredibili Su Playstation 3 Ma vabbè Non importa E questo è un altro discorso Per un'altra serie Harley Quinn Insomma Era la psicologa Del Joker E durante le sedute Le varie sedute Si è innamorata di lui Non è che l'ha curata È lui che l'ha contagiata E lei Si è invadita di lui È totalmente impazzita Lo segue E bla 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 E voi direte Harley Quinn Vabbè È una psicologa Sarà innocua No perché è una maestra È una grandissima ginnasta E quindi Se la cava benissimo Nel combattimento Corpo a corpo Sa usare le armi da fuoco Probabilmente Le avrà insegnato Il Joker E niente Praticamente Utilizza tutti Tutti gli accessori Che potrebbe utilizzare Una Una regina di cuori Harley Quinn Queen Quince Vai Il numero completo Sarebbe Harley Quince Harley Quince Vabbè Non importa Avete capito Voi ragazzi Mettete mi piace Comentate Condividete Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo Ragazzi Vai bene